Ciao! Le vitamine vanno assunte a stomaco pieno o a stomaco vuoto? Innanzitutto dividiamo le vitamine in due categorie, liposolubili e idrosolubili. Le liposolubili facilmente individuabili tramite la formula ADEC, quindi la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K e se vogliamo aggiungere anche gli omega 3, sono preferibilmente da assumere durante i pasti, proprio perché si sciolgono meglio nei grassi. Le idrosolubili, ossia la vitamina C, l'acido folico e tutto il complesso delle vitamine B, devono essere assunte preferibilmente a stomaco vuoto. Ricordatevi però di ingerire le vitamine idrosolubili con acqua a temperatura ambiente, non prendete acqua bollente, ossia del tè né tantomeno del latte caldo, perché sono termolabili, ossia si distruggono con il calore. Cosa fare quindi però con un complesso multivitaminico che contiene ossia vitamine idrosolubili e liposolubili? Quando assumerlo? A stomaco pieno o a stomaco vuoto? Partiamo dal presupposto che sarebbe il caso di assumere la singola vitamina per la singola esigenza di quel momento, ma nel caso doveste assumere un multivitaminico, beh, il mio consiglio è quello di assumerlo a colazione. E dopo questa pillola di saggezza, o meglio, vitamina di saggezza, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Sorridi perché il sorriso è gratis!